ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come sbloccare il trofeo o obiettivo amici squali in destroy all humans la prima cosa da fare è avanzare con la storia fino a completare la missione di santa monica in questo modo potrete ritornarci per esplorare liberamente lo scenario senza che magari fallite la missione perché siete in modalità libera una volta che avete diciamo fatto questo tutto quello che dovete fare per sbloccare l'obiettivo trofeo amici squali è quello di raggiungere la spiaggia e assicurarvi di trovare un cartello come questo che indica che diciamo non dovete diciamo dare da mangiare agli squali o meglio ci sono degli squali in acqua quindi dovete stare attenti quindi lanciate un umano in acqua e voilà l'obiettivo trofeo amici squali è vostro